Oggi presentiamo tre bandi, tre avvisi per un ammontare complessivo di 21 milioni di euro destinati allo sport, 8 milioni di euro per l'impiantistica sportiva pubblica dei comuni, 8 milioni di euro destinati a impiantistica sportiva di soggetti privati non profit, quindi associazioni sportive direttantistiche, oratori, enti senza finalità di lucro e 4 milioni e 800 mila euro, circa 5 milioni di euro destinati a progetti che hanno a che fare con sport e salute, sport e disabilità, attrezzature. Tutto questo perché noi riteniamo che lo sport sia un elemento che migliora la qualità della vita e questo imponente investimento sull'impiantistica sportiva ha a che fare con un'idea di fondo, che migliorare, realizzare impianti sportivi significa realizzare contenitori sociali in cui poter dare ai pugliesi la possibilità di fare sport e soprattutto nelle realtà più piccole, e nei quartieri più difficili dare un esempio a quei ragazzi che vivono anche contesti più difficili. Quindi investire sullo sport significa investire sulla vita e in questi anni noi abbiamo quintuplicato le risorse da destinare allo sport più complessivamente.